Ma dimmi una cosa, ma con tua moglie com'è finita? Tutto bene. Gli sono finite quelle strane voglie? Sì. L'importante è questo. E ti voglio dire la verità? Mi sono cominciato a me. Mi facciamo le cose strane, che sono strano. Ti piace? Sì. E ti piacerebbe pure fare sesso a te? Ma certo. E allora spicciati, corri a casa che ha già cominciato. Veloce. Ma ha cominciato chi? No.